La dottoressa McWheely Guarda! Questa è la dottoressa McWheely! Sta guardando fuori dal finestrino! L'aereo ha abbassato il carrello di atterraggio Vuol dire che sta per atterrare! Ecco l'aeroporto! La dottoressa McWheely è arrivata a Londra Ora attraversa la strada e va a cercare il pullman Prima di attraversare la strada bisogna guardare a sinistra Ohi! Perché la macchina è arrivata da destra? La dottoressa non se l'aspettava Come mai? E poi ha capito! In molti paesi le macchine procedono sul lato destro della strada Ma in Inghilterra le cose stanno diversamente Le automobili procedono sul lato sinistro della strada e prima di attraversare la strada bisogna guardare a destra E le macchine in Inghilterra sono diverse Le nostre macchine hanno il volante a sinistra In Inghilterra si trova a destra Inoltre a destra si trovano il cruscotto e i pedali Queste automobili circolano nei paesi che hanno la guida a sinistra Ricordiamolo! Ora bisogna trovare il bus Guarda come sono belli questi bus rossi a due piani che circolano in Inghilterra Si chiamano Double Ducker Questo qui non ha il tetto È comodo per vedere la città È molto divertente visitare le città nuove Guarda i palazzi là davanti Scrivici nei commenti quali di essi hai riconosciuto Guarda i palazzi